Ciao a tutti, quali sono i segni che ha altre donne? Beh, allora, uno è ad esempio ogni volta che riceve una telefonata o che va a fare una telefonata si sposta e si nasconde diciamo per parlare in modo riservato come se fosse il presidente degli Stati Uniti che deve parlare con il presidente della Russia per accordarsi per una nuova guerra nucleare fondamentalmente insomma. Un'altra cosa è che ad esempio non vuole essere tuo amico su Facebook ma contemporaneamente non ti dà modo di vedere la pagina per cui mette la pagina, la privacy della pagina in modo tale che soltanto gli amici ad esempio possano vedere le cose. È un altro segno che probabilmente ha qualcun'altra, altre donne. Ti fissa gli incontri diciamo, cerca di vederti in orari abbastanza scadenziati ad esempio e in orari un po' particolari tipo al primo pomeriggio, nella pausa pranzo, in situazioni di questo genere e quindi è un altro segno che probabilmente ad esempio alla sera altri impegni diciamo evita spesso di farti telefonate o di cercarti alla sera ad esempio sul tardi perché magari è con altre donne quindi o con la fidanzata o quello che è per cui dopo un certo orario c'è il coprifuoco e diciamo difficilmente si fa sentire. Alle volte scompare magari per qualche giorno o una settimana, qualche giorno e poi ricompare dal nulla rifacendosi sentire, dicendo che, non so, trovando qualche scusa, qualcosa. Ti dà poche indicazioni, ad esempio cerca di evitare di invitarti a casa sua e cerca piuttosto di venire a casa tua, cerca di evitare di farsi vedere in giro cioè cerca di mantenere una certa riservatezza, diciamo quasi come se fosse James Bond un agente segreto che deve spostarsi nell'ombra, non deve farsi vedere in giro. Queste sono tutte indicazioni, diciamo indicatori che segnali che inequivocabili alcuni diciamo che ti indicano che ha comunque un'altra donna o altre donne, altre relazioni insomma non sei l'unica ma perlomeno fai parte di un aremo o di una cerchia. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Mi raccomando, la domanda va postata nei commenti, no o meno Whatsapp perché non riesco a gestirle e il servizio del video risposta è gratuito ma valido solo per gli iscritti al canale, quindi ti esorto e iscriviti al canale. Se questo video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao!